E ben trovate anche questa mattina carissime telespettatrici e carissimi telespettatori, nostra compagnia sabato 16 marzo 2024, sono le 7.20 puntualissimi per la nostra rassegna stampa all'edicola quotidiana Buongiorno Rossini. Partiamo come sempre dal meteo che il nostro regista Andrea Sabatini, quest'oggi ci sta proponendo attraverso il sito dell'Aeronautica Militare, come vedete mancano 5 giorni all'equinozio di primavera, oggi il 16, l'equinozio è il 21, ma le temperature sono assolutamente miti e primaverili già preannunciano quello che sarà poi anche dal punto di vista del calendario una certezza, ovvero la tanto agognata di stagione preferita da tantissime persone, la primavera, siamo adesso intorno agli 11 gradi, ma come vedete nell'arco della giornata, seppur con una velata nuvolosità, si toccherà addirittura la temperatura di 16 gradi, per poi lasciare nel pomeriggio addirittura lo spazio anche al sole, poi ci sarà qualche pioggia in serata, no pioggia a velatura, adesso vedo a malapena se sono delle goccette o delle velature di nubi. Quindi questa è la situazione meteorologica, vediamo le previsioni del meteo Marche che confermano quanto detto, le precipitazioni invece saranno lungo l'arco appenninico sia al nord che al sud delle Marche. La webcam, non so se il nostro regista è pronto oppure la rinviamo più tardi, passiamo alla lettura delle prime pagine, il resto del Carlino ci propone l'intervista come anche il Corriere Adriatico al candidato ufficiale del centro-sinistra del Partito Democratico, Biancani, che coinvolge subito gli ex rivali, ovvero Mengucci e Vimini che saranno presenti nella squadra del centro-sinistra, l'anzi lo conosco bene, chiaramente sarà il suo avversario dall'altra parte della barricata. In testa al titolo l'articolo relativo alla guerra di famiglia in casa Ranocchi, Arianna contro madre e sorella, lasci la società, lei fa ricorso scontrofrondale nell'azienda di software fondata dal padre Giovanni. La fotocopertina invece dedicata curiosamente all'amore per l'arte, manifestato subito appena arrivato dal nuovo acquisto della VL Carpegna Prosciutti Dwight Foreman, aveva detto mi piacerebbe andare ad Urbino a ammirare le opere d'arte contenute all'interno del Palazzo Ducale e nelle altre siti della capitale feltresca, subito accontentato, ieri è andato a fare canestro con l'arte, questo è il bellissimo titolo nell'articolo di Elisabetta Ferri, è rimasto stregato da Raffaello e chi non lo sarebbe aggiungo io. Pauroso schianto gravissimo un motociclista, ieri sera sulla Monte Labattese una serata da treggenda per i tanti che si sono ritrovati, intrappolati all'interno della via dell'arteria che collega Pesaro con l'entroterra, intrappolati perché poi il traffico è stato bloccato, deviato vedremo all'interno poi cosa è successo. Cronaca giudiziaria, violenza su due bambine, Patrigno contannato dovrà scontare tre anni e mezzo, poi il caso Riceci, la lettera intimidatoria indirizzata al dirigente della provincia che la provincia stessa poi girerà in procura e poi all'Ateneo di Urbino ritorna ad aprire dopo anni un corso di archeologia, l'Ateneo lancia la nuova laurea. Infine chiudiamo con l'avvenimento di ieri a Fano, è passato il Megaiot, la città ha trattenuto il fiato, vedremo delle bellissime foto all'interno che ci faranno gustare appunto il passaggio lungo le vie del centro città di Fano di questo Megaiot e poi l'intervista a Bancheri, l'allenatore della Vispesaro che domani sera alle 20.45 affronterà al Benelli la corazzata Cesena. Veniamo al Corriere Adriatico, o si draga il porto o si chiude, questa è la priorità di Biancani dopo l'investitura candidato a sindaco, l'accordo è il primo passo, quello con Vimini e Mengucci che poi potrebbe portare Ricci a correre per la poltrona di governatore delle Marche nelle elezioni 2025. Dicevo dello scontro sulla Mantalabatese a cui è dedicata la fotocopertina del Corriere Adriatico e poi passa il maxi yacht a Fano, ardo il trasporto da Bellocchi al porto, al 118 di Fossombrone mancano due medici su tre, il servizio è andato in crisi, non ultimo l'altra sera e poi anche qui la cronaca giudiziaria con le carezze Osea la figliastra condannato per violenza, ad accusare l'uomo, la ragazzina e la migliore amica, il giudice ha inflitto una pena di tre anni e sei mesi. Partiamo con Biancani, sarà il sindaco dei quartieri, il porto Dragaggio o si chiude, intanto il Corriere Adriatico presenta i tre candidati alla poltrona sindaco anche se poi ha completamente sbagliato i nomi che io ho corretto poi a penna, il 10 febbraio la prima candidata della lista civica viene oltre, l'avvocato Pia Perricci che vediamo appunto nella fotografia, poi l'annuncio del centrodestra che lancia Marco Lanzi invece di Daniele Vimini erroneamente scritto e infine l'altro ieri i tre saggi del PD, i Ceriscioli, Ricci e Belucci che incoronano Biancani a guidare il centro-sinistra. Quindi questa è la margherita delle candidature alle elezioni dell'8 e del 9 giugno e poi ieri naturalmente dopo l'annuncio il bombardamento dei complimenti giunti a Vimini per l'investitura e l'intervista che ha rilasciato sia al Corriere Adriatico che al resto del Carlino. In mezza giornata 750 messaggi solo su WhatsApp, mi ci vorranno ore per ringraziare, l'affetto e la fiducia che mi state dimostrando sono una bella carica di energia positiva. Così esordisce Andrea Biancani a poche ore dall'investitura ottenuta dal PD. Adesso si attende la ratifica di lunedì 18 dall'Assemblea Comunale e poi gli incontri con gli alleati per essere il sindaco indicato per le prossime elezioni. Sarò un sindaco popolare se vincerò le elezioni. Aperto, pronto ad ascoltare, cercherò di migliorare le mie capacità amministrative senza rinunciare alle peculiarità che mi caratterizzano. Pesa la capitale la grande opportunità con una mole di progetti che dovremmo portare a termine. Non arretreremo sul sociale, che anzi voglio rafforzare, ambiente, energie alternative, viabilità, sostenibilità, i quartieri e il suo cavallo di battaglia, ovvero il dragaggio del porto insieme alla trasformazione della Darsena in infrastruttura turistica. E qui l'alleanza e l'accordo trovato con i suoi avversari di partito, Sara Mengucci sarà assessore, così come Daniele Vimini dopo la lunga cavalcata di Pesaro non è praticamente al centro di un ruolo centrale e insostituibile. Applaude il Movimento 5 Stelle che accetta la scelta di Andrea Biancani e auspica un incontro diretto con la capolista Francesca Frenquellucci per il campo largo. Infatti viene subito intervistata l'assessore che parla di come i 5 Stelle, l'assessore Frenquellucci che vediamo nella fotografia, che appunto annuncia come i 5 Stelle siano contenti della scelta di Biancani, c'è un confronto aperto da tempo perché in regione insieme a Marta Ruggeri già collaborano da qualche anno. Lascio momentaneamente il Corriere Adriatico perché voglio chiudere il discorso della candidatura di Biancani, estrapolando anche l'articolo dal resto del Carlino facendoci una risata con questa fotografia, con questo selfie che era stato pubblicato dal sindaco giovedì sera e il Carlino ne ha fatto un meme e andiamo a farci due risate perché è veramente divertente. Allora parla Ricci, che casino sto selfie, l'ho fatto vedere alla Schlein e mi ha detto oddio che orrore di colori, fai cambiare subito la camicia a Vimini. Vimini che naturalmente non correrà da sindaco, che accetta questa posizione e vabbè mi rifarò con un seminario rossiniano in Uzbekistan il 12 giugno, parto e sto via un mese. Poi parla Biancani, sarò il sindaco più aperto e pop, bacio le mani e stringo le persone, ah no scusate ho sbagliato, bacio le persone e stringo le mani. Parla anche Sara Mengucci, volevo fare le primarie ma non subito bocciata, passo alle medie. Parla Bellucci, vai è finita, ora torno da padre Damiani, finalmente dopo mesi e mesi in cui era stato coinvolto. E infine Ceriscioli, madonna che fatica a fare i conti con questi, non sapevano neanche la radice quadrata di 25. Veramente molto divertente questo quadretto familiare del PD con il fumetto che il resto del Carlino si è inventato e ci ha fatto chiaramente divertire. Chi è Andrea Biancani? Lo conosciamo tutti, nato nel 71, laureato in scienze geologiche, dipendente dell'Agenzia delle Entrate, tante tante mansioni, consigliere di quartiere, del comune, assessore comunale, consigliere regionale, sposato con Marzia e senza figli, lo chiamano mister 10.000 prefedenze. Attenzione perché l'uscita di Biancani dal consiglio regionale, se verrà eletto appunto nel comune di Pesaro, apre due caselle nel consiglio regionale, sia lui sia se Luca Filippi, il candidato del centrodestra a Fano, vinceranno le rispettive elezioni a Pesaro e a Fano. Si liberano, come dicevo, due caselle, una nel centrosinistra che dovrebbe essere poi occupata da Renato Claudio Minardi e l'altra da Giovanni dall'asta. Quindi nell'articolo di Maurizio Gennari potrete andare a leggere le considerazioni che Minardi e dall'asta hanno rilasciato in caso riescano poi a occupare quelle caselle lasciate libere da Ser Filippi e Biancani. Torniamo sul Corriere Adriatico, poi rientreremo sul resto del Carlino, appunto proprio di Regione. Si scoperchia questo vaso di Pandora dell'operazione Ricci Regione 2025. È un retroscena che la giornalista Martina Marinangeli rivela sul Corriere Adriatico ed è una strategia di come Pesaro sia pronta a riconquistare Palazzo Raffaello. Praticamente Ricci ha annunciato che vuole candidarsi alle europee, ovviamente se la segretaria Schlein glielo permetterà, si candida all'europea anche per misurarsi in termini di voti alle urne, in quanto il vero obiettivo, dice Marinangeli, è strappare dalle mani di Acquaroli lo scettro di governatore. Ricci avrebbe voluto lasciare il testimone al suo delfino Vimini, così da mantenere il controllo su Pesaro. Dal canto suo a Villa Fastigi Ceriscioli puntava su Andrea Biancani che alle regionali del 2020 fu capace di accaparrarsi più di 10.000 voti quando il PD ne ha presi meno di un amministratore di condominio. Per mettertisi di traverso poi Ceriscioli aveva buttato nel agone anche Sara Mengucci, così tanto per dare fastidio. Ricci ha provato ad imporre Vimini ma ha capito che sarebbe stato deleterio per il lungo termine e così si è arrivato al compremesso storico di Biancani. Ora partono le grandi manovre, intanto appunto le europee, ma Ricci deve avere l'ok dalla Schlein, anche perché alle europee si candida Alessia Morani, pronta alla sfida per Bruxelles, e tra Morani e Ricci, lo sappiamo, non corre certo buon sangue. Quindi per essere il candidato governatore nel PD 2025 Ricci dovrà tendere la mano anche verso appunto Alessia Morani e il sindaco deve sperare che la pace con Ceriscioli appena raggiunta non nasconda in realtà il colpo di scena all'ultimo miglio. Ricci si è fatto più di un nemico interno, adesso bisogna evitare la notte dei lunghi colterli perché il suo avversario non è Acquaroli ma casa sua. E oggi il sindaco incontra di nuovo la cittadinanza, l'appuntamento alle 17.30 presso la sala convegna al settimo piano dell'hotel Charlie Urban di Pesaro e racconta non c'era una volta, ovvero quello che non c'era a Pesaro e che oggi c'è, forse un bilancio amministrativo senza progetti che ha più il sapore del commiato e del congedo. Rimaniamo in ambito politico, scende in campo l'Alleanza Verdi Sinistra, osare per costruire un nuovo centro-sinistra, questo è l'obiettivo appunto di questa lista aperta al contributo di realtà civiche pronte a partecipare alle prossime amministrative. Il campo largo ha bisogno di tante braccia per essere lavorato e portare buoni frutti. Pesaro riveste un ruolo centrale e questa è la vera novità politica e partitica della città al termine di un percorso importantissimo e questa appunto ha la presentazione dell'Alleanza Verdi Sinistra nella fotografia. Lasciamo la politica, parliamo di edilizia, per la scuola Liglieri è finita l'attesa, da lunedì il cantiere poi si demolisce. Sulla carta i lavori dovranno durare poco più di un anno e mezzo per concludersi a ottobre 2025. Lo ricordiamo, un investimento di 6 milioni e mezzo, due terzi coperti dalla regione e l'attuale immobile scolastico di Soria verrà demolito, ricostruito nella parte relativa alle classi e altri spazi a eccezione della palestra e dell'auditorium che erano già state ristrutturate. Intanto i ragazzi rimarranno a Pesaro Studi insieme ai 250 bambini della Mascarucci. Nel nuovo edificio 21 aule per le lezioni, due aule di musica, due biblioteche, un'aula di sostegno, due per i professori, spogliatoi palestra, un locale per l'infermeria. Questo è il rendering della nuova Dante Alighieri. Anche commercianti e albergatori chiedono di non toccare la viabilità di Soria, parlano Ippaso e Oliva, Ippaso il segretario comunale della Confesercenti e Oliva il direttore del Baia Flaminia Hotel, entrambi contrari all'accusura di Dia Caboto, esprimono tutto il loro malcontento e le preoccupazioni per non far morire la zona di Baia Flaminia che rischia a causa dell'alto numero di veicoli che già transitano e poi se chiudiamo una strada sarà ancora peggio. Questo è il senso del discorso. Ne rimarrebbero colpite tutte quelle attività balnearie ed economiche che sono ubicate a Baia Flaminia. Scontro grave motociclista, lo abbiamo anticipato prima tra Villa Ceccolini e Villa Fastigi, ieri pomeriggio lungo la Monte Labattese, purtroppo allora di punta erano le 17.30, ve la racconto in breve. Una Golf guidata da una 64enne stava procedendo verso la Monte Labattese proveniente da strada Falcineto. Si mette sulla Monte Labattese e in direzione Pesaro viaggiava un motociclista. La donna probabilmente non lo ha visto e lo ha colpito, quindi molto grave l'impatto. Il centauro è stato sbalzato dalla moto, è finito sull'asfalto, è arrivata l'eliambulanza da Torrette, ferita anche la sigla, signora. L'incidente ha dirottato la viabilità su strade alternative e periferiche e la circolazione è tornata normale dopo le 19.30. Cronaca giudiziaria, carezze osè alla figlia della moglie, condannato per violenza sessuale e messaggi insistenti fin troppo maliziosi alla figliastra fino alle carezze nelle zone intime. Ieri la sentenza per un 46enne di origine di albanese, residente a Pesaro. Dovrà anche risarcire 100 mila Euro, ma il giudice per questo ha rimandato alla formulazione del danno in sede civile per l'imputato, anche interdizione dei pubblici uffici per 5 anni. Ricorda il presidente della provincia Giuseppe Paolini, la collega giornalista Giovanna Renzini, ciao Giovanna, dal sorriso gioioso, ne abbiamo parlato anche nei nostri Rossini News, aveva il dono di far volare le menti. Questo è il commosso addio appunto alla collega Giovanna dal presidente della provincia Giuseppe Paolini. La sanità prepara cambiamenti, il silenzio dell'AST ci sorprende, questo è l'appello di CGL, CISL e UIL che hanno chiesto alla direzione dell'AST alcuni chiarimenti in prospettiva del trasferimento, anche dello spostamento della cittadella salute, della salute da muraglia per lasciar posto al cantiere del nuovo ospedale. Nel 2023, dicono i sindacalisti, abbiamo intrapreso un percorso di attivazione di tavoli di concertazione con la direzione dell'AST, ma in questo momento quando stiamo cercando di approfondire alcune tematiche, tutti i tavoli e le trattative si sono inspiegabilmente arenate. Preoccupa il futuro di muraglia. Complimenti alla Banca di Pesaro che raggiunge i 10 milioni di utile, raggianti il presidente Tonucci e il direttore Benedetti in questa bella fotografia sotto la palla. È un buon momento per il nostro istituto di credito, sul territorio siamo in crescita come clientela e stiamo progettando una serie di progetti. Andiamo a Urbino, la lista civica è la mia casa, mi hanno chiesto di tornare, quindi torniamo in politica, parla Massimo Guidi, segretario di azione, il partito di calenda e Guidi andrà a candidarsi nella giunta di maggioranza, quella di Gambini che si candida per il terzo mandato. Lorenzo Furlani, l'autore del giornale, si chiede ma come? Il partito di calenda a Fano sceglie i progressisti, a Roma è avversario del centrodestra e lei, Massimo Guidi, è in questa lista civica a sostegno di Gambini. Interessante la risposta, al di là del fatto che proprio Guidi venne escluso dalla maggioranza di centrodestra nell'agosto del 2022 quando aderì al partito di calenda, adesso rientra perché tutta l'elite di Liberi per Cambiare ha tenuto che rientrasse nella squadra, anche perché rappresenta una lista civica e non ci sono riferimenti alla destra. Palazzo Ducale aperto a Pasqua, invece ingresso gratuito il 25 aprile, non si paga nemmeno il 7 aprile e il 5 maggio, quindi l'invito ad andare a visitare la Galleria Nazionale delle Marche con tante collezioni contenute di altissimo livello mondiale. A Fano parte i lavori per il terzo nuovo nido, avremo 120 posti in più, è stata posata la prima pietra a Vallato, è un rituale di questi ultimi mesi, quello della prima pietra, specialmente nell'edilizia scolastica ed è il terzo nido che apre. Il vecchio girasole resta ora un cumulo di macerie e si sostituirà a una struttura moderna con spazi dedicati ispirata ai concetti di sostenibilità, quindi girasole che si va al lato e che si aggiunge a quelli di Cucurano e di Bellocchi, confermato il termine dei lavori entro il 2025. Donne e minori abusati nella stanza tutta per sé, molto interessante, nella caserma dei Carabinieri è stato inaugurato un ambiente del Soroptimist per le vittime più fragili, un luogo speciale dove accogliere e proteggere una umanità ferita nell'anima e nel corpo da violenze di genere o perpetrate sui minori. A Valmetauro, specialmente a Fossombrone, questo grosso problema del 118, in servizio un solo medico su tre, è in crisi la rete d'urgenza nella Vallata ed è successo proprio l'altra notte, è rimasto sguarnito il pronto soccorso perché? Perché l'unica ambulanza medicalizzata è dovuta intervenire a Monteguiduccio di Montefelcino per un codice rosso e il 118 dell'ospedale di Fossombrone è rimasto senza medico. Adesso ci sono varie interpellanze, il nosocomio sta affrontando una situazione che va discussa immediatamente perché non è possibile che banchi il medico di urgenza dell'unità 118. Lasciamo il Corriere Adriatico e prima di arrivare al resto del Carlino diamo un saluto come sempre a tutti coloro che su Facebook ci augurano la buona giornata, sono in tanti Barilari, Gambini, Luca Pandolfi, Angelo Gatti, Michela Guiducci, fanno il teatrino, non so di cosa si tratta, probabilmente della politica. Fiorella Peri, Roberto Tomassoli che ci scrive Buongiorno Marco, la vicenda della capienza ridotta alla Vitrifrigo Arena mi sembra una cosa assurda, da mesi si sapeva di queste due partite che si sarebbero disputate nello stesso giorno, ci si poteva organizzare per tempo, lasciare fuori dei pesaresi dal Palace e al contrario permettere a più Cesenati di entrare allo stadio è un'assurdità senza spiegazioni logiche, potrebbe essere l'unico sold out per l'anno per la VL, incredibile veramente, questo ne abbiamo già parlato anche ieri sera. Poi grazie a Claudio Paolini, Lorenzo Tagliaferri, Mirko Scardacchi, domani tutti al Palace a tifare VL, i bolognesi devono tremare, Francesca Falcioni, Roberta Aureli, Buongiorno dal Porto, Daniele Malandrino, Michela Guiducci, Gianluca Tacconi, Daniele Santini, Doriano Marzi, Anna Raideni, Ornella Simoncini, grazie a tutti anche oggi per essere con noi. Sono le 7.46, devo volare perché anche il resto del Carlino è nutrito oggi, andiamo alla battaglia per l'ambiente e la provincia contro Aurola, lettera intimidatoria, vediamo cosa è successo. La provincia non accetta quella lettera inviata da Aurora SRL, la società che vuole ricostruire, lo sappiamo tutti, la discarica di riceci, la considera intimidatoria, addirittura stiamo valutando con l'ufficio legale di inviarla alla procura della Repubblica, e il rituale irrispettoso, arrogante, senza alcuna reale attinenza alla realtà. Sarà la procura a valutare. Allora, cosa è successo? È successo che l'amministratore delegato di Aurora SRL, Simone Sammaritani, ha chiesto senza giri di parole la rimozione del dirigente della provincia, Andrea Pacchiarotti, dal ruolo di coordinatore della conferenza dei servizi per la discarica di riceci. Aurora, dunque Marche e Multiservizi, che è il 40%, lo considera influenzabile dalla politica, ostile alla discarica e chiede che venga rimesso in quel ruolo il precedente coordinatore Maurizio Bartoli. Si profila quindi un vero scontro tra la società della discarica e la dirigenza della provincia. Martedì a Riceci arriverà la commissione Ecomafie, lo sappiamo già, lo abbiamo detto in precedenza nei giorni scorsi, ci sarà il presidente Morroni e gli onorevoli Borrelli, Iaia Silvestri e Simiani. E come vedete la protesta contro la discarica è arrivata persino a Bruxelles. Ne vedremo delle belle la prossima settimana. Anoressia, bulimia e altri disordini, pure il cibo sano diventa un'ossessione, è stato presentato l'evento dove cercare amore sui disturbi alimentari, il 22 marzo nella sala del Consiglio Comunale, è stato presentato alle 17, ve lo ricordo. La scelta della data di ieri per la presentazione di questo evento non è stata casuale, infatti il 15 marzo si celebra la giornata del fiocchetto Lilla dedicata alla sensibilizzazione su anoressia, bulimia, binge eating e altre problematiche legate alla nutrizione. E qui ho imparato una cosa nuova, c'è chi soffre di bigoressia caratterizzata dalla continua preoccupazione per la massa muscolare, i fissati del fisico. Articolo di Maurizio Giannare sulla guerra dei ranocchi, quindi chi è interessato può acquistare il Carlino e andarselo a leggere. Ed è pronto a esplodere il Festival Cum, raffica di eventi, la scuola al centro, la kermesse promosta dalla psicanalista Recalcati, dal 5 al 7 aprile prossimo per la prima volta arriverà a Pesaro. Tanti riferimenti alla cultura e ovviamente alla scuola per gli appuntamenti creati da Recalcati. Ieri appunto presentazione presso la cornice di Villa Caprile, presenti Camilla Murgia, l'assessore e Daniele Vimini. Si partirà il 6 aprile, la chiusura il 7 con Recalcati, in tutto ben 30 incontri con più di 40 ospiti. Tutto riassunto nel articolo I Cantieri delle Idee qui a Pesaro. Sullo scontro di Montelabate ne abbiamo parlato. Nuovo osilo a Pian del Bruscolo, 60 posti in più per i bambini, lavori al via per un importo da oltre 1 milione e 100 mila euro, occhielli soddisfatto. La superficie sarà circa 500 metri quadrati, operativo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30. Cronaca di Fano, come dicevamo, il passaggio di questo mega yacht in transito, brivido in città, la gente grida e consiglia le manovre delle finestre, quindi tuttologi che si impersonificano in professionisti del traffico, tutti con il naso in su e il cellulare in mano. Ieri mattina per questo colosso da 42 metri, pensate, è stato anche necessario tagliare un palo della segnaletica. Vedete le foto? Raccontiamo le foto perché sono veramente esplicative, più delle parole. Questo è il transito in Viale Cavallotti, Vestro Piazza Rosselli, come vedete la barca che sfiora il bastione Sangallo e poi il punto più critico all'angolo tra Viale Battisti e Viale Adriatico, dove appunto sono stati addirittura strappati diversi rami, uno di questi è rimasto impigliato sullo scafo come l'asta di una bandiera. Il ritorno di Stefanelli a San Costanzo, San Costanzo che assapora la settimana da capitale e all'insegna di arte e sapori. Stefanelli si candida a sindaco dopo una pausa di riflessione di cinque anni, il 63enne moderato si pone alla guida del centro-sinistra per il dopo Sorcinelli. Le sue priorità il pieno ripristino alla palestra, il sostegno alle persone in difficoltà, misure specifiche per i piccoli negozi. Urbino, a Urbino viene ripristinata la laurea in archeologia, ne parla la professoressa Berta Martini, gli studi archeologici tornano nell'offerta formativa dell'università. Sotto, è una tradizione questa, in quanto sotto la direzione del professore Sandro Stucchi, vennero ripresi gli scavi italiani a Cirene. Le tradizioni di questi studi nacquero nel 1956 con la fondazione di lettere e filosofia. E a proposito di arte, cresce cultura, cresce l'attesa per la mostra su Federico Barocci, il 20 giugno verrà inaugurata l'esposizione fino al 6 ottobre a Palazzo Ducale, oltre 70 dipinti e disegni. Le emozioni della passione sotto il Nerone. A Serravalle di Carda torna la rievocazione storico-religiosa, anche quest'anno una cura minuziosa di dettagli, costumi e scenografie, addirittura sonorizzazione ed effetti realizzati con attrezzature professionali, mentre a Cagli sarà festa grande, si celebrano le statue sacre nella chiesa di San Giuseppe, il centesimo anniversario delle tre opere della passione del Venerdì Santo, una tradizione molto sentita sotto il Petrano. Era questa l'ultima notizia, adesso ci andiamo a fare due risate con il blob di Franco Bertini, come ogni sabato. Intanto parliamo di Nardi, delle imprese di Luca che questa settimana ha interversato durante sia la rassegna stampa sia in Rossini News. Il padre di Luca si chiama Dario, fa il notaio a Pesaro, il figlio si chiama Luca, fa il tennista in giro per il mondo. Il primo lavora da sempre sul campo del diritto, il secondo è un maestro nel campo del rovescio. Ci sono famiglie fatte così. Scoppia una bega urbanistica per la sistemazione edilizia di largo tre martini nella zona di Soria. Alla fine della battaglia i martini saranno molto più di tre. Per eleggere il sindaco di Pesaro ci sarà anche una lista degli albergatori, a riferimento a quella di Oliva. Tutte stanze vista mare, sconti per comitive e pericena. Fioriscono senza tregua gli intenditori e gli esperti di intelligenza artificiale. Per quella naturale ti dicono che non riescono a capire di cosa stai parlando. Le poste cercano dei portalettere. Forse prima dovrebbero trovare qualcuno che invii e scriva queste lettere. Andrea Biancani è il sindaco candidato della sinistra pesarese. Se si toglie lo zainetto alla Ricci allora vuol dire che è vero. Per tentare di non retrocedere la VL Carpegna deve vincere contro Bologna. Come chiedere a uno squalo di portarti sano e salvo a Riva. Franco ci introduce alla pagina sportiva. Abbiamo parlato di VL, parliamo subito della conferenza stampa di ieri di Sacchetti che striglia i suoi giocatori. Abbiamo qualcosa da farci perdonare. Parla nell'intervista della collega Ferri relativamente alla vigilia di una partita che ha una rivalità storica che deve regalare a tutti stimoli extra. E poi la polemica che ha introdotto anche l'amico Roberto Tommassoli relativamente anche alla chiusura della seconda gradinata. La questura ha bocciato per motivi di ordine pubblico la nuova richiesta della commissione di vigilanza che ritiene idona la struttura per ospitare il pubblico fino ai limiti della sua capienza. Foreman, come dicevamo nella fotocopertina del Carlino, ieri è andato a Urbino, è stato esaudito il suo desiderio, l'aveva studiato a scuola, pensate un po', è un sogno essere qui stregato da Raffaello, divin pittore, un idolo. Speriamo che domani conduca i suoi condottieri a questa colpito e diciamo così ipnotizzato da Raffaello riesca a ipnotizzare anche gli avversari domani. L'appuntamento ve lo ricordo alle 18 alla Vitri Frigo. Invece alle 20.45 alla Benelli arriva la corazzata Cesena, come lo vedete, in testa alla classifica, 77 punti. Il Carlino ha intervistato come sempre Bancheri che esorcizza il fantasma Cesena, loro fortissimi, ma tutto può succedere nel calcio, nulla di scontato, avremo grande attenzione per una squadra che pronosticavo prima, ma noi ci siamo. E poi a Fano il capitano Urbinati, oltre la classifica, possiamo abbattere tutti, basta crederci e domani al Mancini arriva la capolista Campobasso, quindi appuntamento ore 14.30, una squadra molto competitiva, ma dice Urbinati, in casa la mia squadra può fare qualsiasi impresa, siamo carichi. Lasciamo l'ultima notizia di sport con la Megabox, oggi a Cremona parla coach pistola, niente sorprese, serve il punto playoff, oggi alle 18 a Cremona, penultimo turno della regular season contro un avversario di livello, ma non possiamo ridurci all'ultima gara con Milano, prevista sabato 24 marzo alle 17.00. Era l'ultima notizia, adesso andiamo a vedere il palinsesto della nostra emittente, abbiamo le repliche di Insieme a Canestro, quell'edizione di giovedì scorso, in cui avete visto Andrea Cinciarini e Luciano Murgia, ospiti di Bettaferri, potete rivedere alle 11.00, alle 20.45 e poi anche domani alle 9.30 e alle 14.00, prima di dare il vostro sostegno alla VL, domani contro Bologna. La natura della cultura, il magazine dedicato a Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, a mezzogiorno oggi il riassunto di tutte le puntate che avete potuto visionare lunedì, mercoledì e venerdì, anche replicata alle 19.00 e domani. La lettura e il commento al Vangelo, fra poco alle 10.30 con il nostro Don Marco di Giorgio, poi alle 4.00 oggi pomeriggio e domani mattina alle 8.00 e alle 11.00. E chiudiamo con il Rosini News Week, le notizie della settimana, il riassunto di tutte le principali notizie andate in onda durante il Rosini News alle 19.30, poi in replica alle 23.30 e domani nelle tre edizioni che vedete in sovraimpressione. Siamo giunti alla conclusione, prima di lasciarvi alle previsioni meteo che abbiamo comunque già visto all'inizio della trasmissione, non mi resta che salutarvi, augurarvi un bellissimo weekend, io sarò nuovamente con voi lunedì, martedì e mercoledì, quindi non lasciate il canale, non cambiatelo mai.